Il ciclone, devo dire, era proprio un piccolo gioiello, è piaciuto a tutti, a intellettuali, sinistra, destra, c'era gente, a tutti insomma, perché se no, è fatto veramente un bel film, una bella comedia, poi sai, Leonardo tende un po' a ripetersi, insomma, poi ha fatto anche il paradiso all'improvviso, anche un bel ruolo, ma diciamo che io dico sempre Leonardo, staccati da quel personaggio, da quel personaggino, inventati da cos'altro, insomma, hanno paura, hanno paura di rischiare, giocano sempre sullo stesso piatto, invece bisogna rischiare, io faccio dei personaggi estremi, se pensi all'ultimo capodanno, quello di Marco Risi, era un ruolo, prima di offrirlo a me quel ruolo, in cui questo avvocato, che straveste, colleghi a Pier, che sparano al culo, non so se vi ricordate, il personaggio al limite, prima di me l'ha offerta altri quattro attori, che hanno rifiutato naturalmente, ma quello c'è, per un attore la cosa più bella è quella di trasformarsi, di diventare qualcos'altro, di fare personaggi estremi, ma chi se ne frega!